quando è stato portato in sala operatoria per lui oramai non c'era più niente da fare erano le 23 ma lui in ospedale c'era arrivato alle 8 del mattino i familiari avevano chiesto in vano che fosse sottoposto ad un attac con mezzo di contrasto ma erano stati rassicurati per 15 ore ininterrotte si sarebbe trattato avevano detto loro di una semplice occlusione intestinale una convinzione evidentemente infondata che ha portato il paziente alla morte vittima un uomo di 58 anni di pagani al flitto dal morbo di cron da tempo era in cura a roma la scorsa settimana però dolori addominali lancinanti hanno costretto i familiari al trasporto dell'uomo in ospedale hanno c'era inferiore il disagio era tale pare che non si è riuscita ad immaginare di trasportarlo nella capitale ma quella giornata è costata la vita al 58 anni di pagani sul decesso ora parenti ed amici intendono ottenere chiarezza oltre al dolore per una perdita tanto improvvisa quanto in attesa c'è la rabbia per l'uomo di 58 anni di pagani era stata infatti invocata un attac con contrasto erano le 8 del mattino nulla fino alle 22 quando a preoccupare i sanitari è stato il fatto che addome e schiena del malcapitato sono diventati scuri lilla violacei in sala operatoria il bisturi ha emesso l'inappellabile verdetto l'addome era pieno di sangue non si poteva più in alcun modo intervenire tutto questo all'umberto primo di nociare inferiore per la cronaca il morbo di cron è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino causa principalmente dolori addominali diarrea vomito perdita di peso ma può anche causare complicazioni in altri organi apparati come eruzioni cutanee artrite infiammazione degli occhi stanchezza mancanza di concentrazione la malattia di cron è considerata una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario aggredisce il tratto gastrointestinale provocando l'infiammazione anche se viene classificata come un tipo particolare di patologia infiammatoria intestinale tende a presentarsi inizialmente negli adolescenti e nei ventenni con un alto picco di incidenza tra i 50 e i 70 anni la malattia ovviamente può manifestarsi a qualsiasi età non esiste secondo gli esperti ancora una terapia farmacologica risolutiva o una terapia chirurgica eradicante la malattia le possibilità di trattamento sono limitate al controllo dei sintomi al mantenimento della remissione alla prevenzione delle ricadute in teoria dunque non dovrebbe portare alla morte eppure il 58enne paganese non ce l'ha fatta il suo caso accresce il fascicolo di decessi su cui occorre fare chiarezza e a fare chiarezza dovrà essere non solo la giustizia ma anche l'accertamento interno da parte dell'ospedale di nociara inferiore della sua direzione e della direzione generale dall'asl di salerno l'ultima morte anch'essa sospetta appena ieri pomeriggio